buongiorno ecco qui car tablet dedicato audi a4 10.25 pollici dove andiamo a recuperare tutta la sezione originale e in più andiamo a dare android un touchscreen hd prodotti di nuova fabbrica ecco qui ovviamente c'è un toglie che tutti i prodotti delle fabbriche prima sono sempre top quality alla domanda spontanea nasce stefano tutte le funzioni originali del monitor che io avevo rimangono la mia risposta è questa andiamo a mettere tasto radio in automatico siamo nella sezione originale vogliamo vedere setup car ovviamente recuperiamo tutto ecco qui via voce bluetooth navigatore info cosa facciamo abbiamo retro camera l'abbiamo inserita noi o già c'era di serie non c'era quindi siamo nel sistema originale andiamo a mettere la retro camera eccola qui adesso andiamo in android per andare in android premiamo il tasto media tocchiamo il touch siamo pronti ad utilizzare android dashboard accendiamo le luci accensione luci e diminuisce il display contagiri apertura sportelli spengiamo le luci via voce bluetooth in questo caso il cliente ha scelto il bluetooth del car tablet ecco qua fonia possiamo fare le chiamate streaming musicale tramite questa app il cliente senza fili trasferisce tutta la musica direttamente nel tablet su tutto l'impianto originale basta far partire la musica dallo smartphone la gestiamo qua media media vuol dire che andiamo a gestire i contenuti usb audio che abbiamo inserito in questo caso abbiamo musica campione cinese perché chiedo sempre di collaudarmi car tablet ovviamente il cliente quando metterà la sua usb gestirà tutto in automatico adesso andiamo sulla sezione android anche video usb video usb abbiamo l'app video e ci spariamo un video proviamo la retrocamera in android nel momento in cui la inseriamo entra in funzione linea guida attiva la togliamo ritorniamo a vedere il contenuto precedente recensioni audio elite ok eccoci qua poi audio elite ecco audio elite 100 celle alessandrino dice wikipedia alessandrino è il 23esimo quartiere di roma indicato con q 23esimo grazie sei uno sveglio te ok allora siamo su youtube mettiamo un film in 4k anche se non è un 4k reale però youtube ci permette di visualizzarlo nelle impostazioni videocorrenti ovviamente posso sfruttare i comandi originali come vedete stiamo sfruttando i comandi originali ecco qua un saluto a tutti saluto anche il cliente grazie per la fiducia che ha avuto in noi rimaniamo a disposizione due anni di garanzia grazie